away buongiorno buonasera buon pomeriggio buonanotte a tutti gli amici di pes fan club a rieccoci qua vengo dalla quattro vittorie di fila e vediamo oggi come cazzo andrà a finire faccio la coppa challenge online o la divisione online e la stessa con raga quindi non me lo state a chiedere ma perché fatto questo potevi vincere potevi perdere non mi interessa chi cazzo viene viene giochiamo c'era ieri dopo aver postato l'ultimo video aver perso per l'ennesima volta ho fatto tra ieri e oggi quattro vittorie di fila secondo voi come andrà a finire sposito 17 napoletano italiana che cazzo non ti hai visto vengo da quattro vittorie di fila andiamo a vedere 701 millesim percentuali come la mia 1500 32 coppa la faccio ducaz io vengo da 4 percentuale 45 9 ma vabbè vediamo un po chi fa giocare e te pareva vabbè mettiamo chi è lì chiamo di maria non me li ho messi non siamo commessi che posso la piccina shock ma ok madonna queste due come stanno sono faccio diciamo difensivo no pensi occhi di difensivo fernandini contropiede bacazzo poi attacco culiballi ronardo rabbio rigorista messi destro messi sinistro messi corta messi lunga l'abbiamo capitano c'era 7 che dice la mano di buona è quello come gioca non ce l'hai scura si io metto già no ok va bene così dai no mi piace neanche questo a fanculo vediamo e sarà scrittata pure questa salutimi soliti iscritti che mi seguono i vari giri angelo e tommy pochi ma buonissimi il resto sono tutti c'è chi ha 1400 e 500 iscritti cazzati di visualizzazioni che c'ha vango dieci iscritti i miei amici che vogliono sbirciare le mie partite grazie ai loro sbirciamenti mi insegnano e mi danno delle spiegazioni ottime giocare registrare e fare il commento non è facile oggi con la giornale lo vedo un po buono se dovessi vincere questa è la sarebbe la quarta di fila con di nuovo con ragionamento di oggi perché lo volevo trovare perché è lungo che mi mancava visto che tutti quelli che ritrova con il rio non si riesce a giocare il primo giro l'ho beccato di maria finalmente ma fa affancancio però tutti che uno portato all'altro non gli ha dato una mazza vi devo dire che è vero che è bagato è che non ha un cazzo di velocità però corre anche se io volevo messi visto che non trovi mai messi ma non fanno l'uomo di bari cambia tutto pensavo che mettesse Mbappe dice che ha fatto due gol niente come niente di Ronaldo Cristiano Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Veniamo se lo sa No perchè vabbè ha lui ma vaffanculo quando два coppa di competitive in preventiva del turning che può aprire molte possibilità la donna ne ha messo puoi sempre lettera e non riesco a giocarlo non riesco a fare un cazzo di dribbling con sto cesso dove vai? cosa fai nel film? ah l'abbio santo l'abbio te l'ho trovato al primo gioco e non c'è mamma ma non posso conto e perché non mi ho cambiato madonna mia madonna mia salta niente chi è là? ronaldo chi è prima donna a me vai giorgio vattene le palle e tutto e non è ma non è ma non è veramente no ma se ho selezionato Ronaldo perché cazzo gliela dà lui? è in ultimo non lo voglio anche rincorre provo a pararlo ma minchia che culo raga questo è culo dove va qui da lì? dagliela a lui guarda dagliela a lui Matteo stai spettando doveva i love this game e non faccio un cazzo di udine se la metto a spendere via ma no ma perchè? perchè li vai addosso? ma perchè? perchè? poi tutti io ce lo siamo attaccati dietro qua qua cioè io che chi ha fatto fallo? sostituzione in corso dai che? ma stiamo scherzando stiamo dai per favore dai ma dai madonna mia madonna mia ma faffanculo ti vuole fa pure la torreta quando è nervoso che mi è venuto madonna mia ma per favore dai fantastico non riesco a giocare come essio che? che è? no 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 mi dare il server no t'ammazzo e dai la sto registrando non fare il pirla ma che ha fatto? sei andato sei ritirato mi dispiace mi dispiace avrà avuto problemi di internet o sarà stato saranno stati seri dai proviamo a fare se riesco a registrare un'altra veloce dai mi dispiace mi dispiace è vero che non stava a fare un cazzo però dai vediamo una seconda squadra dai veloce vediamo qua come stiamo messi qualche rinnovo minchia qualche rinnovo sto cazzo tu sì sto provando quadrato cld visto che le 3b ce l'avevo pompato da una vita no mettiamo prendiamo bersalco un bel po' che non gioco ok tanti gp sto conservando i gp per battistuta non me lo metto mai tu rinnovato ok anche tu sei andato i 9000 gp 10 vediamo ah diciamo va bene questo no che lì non ho qua sta anche lì facciamo giocare altri e chi bandic 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 mi chiede di penza abbiamo le glette le glette ok biglia questo cazzo sta a fare qua per bonus sì va bene lukaku finché tutti questi tutti da rinnovare saranno lukaku vai a fare i chinotti mettiamo lo sta così facciamo fare facciamo finire le partite ok chissà che difesa tra questo e questo beh c'è il capo del merda però così ma non fa niente dai proviamo tanto divertimento è inutile un gioco sperando che riesco a registrarla dai se non finirà di registrarla pazienza devi giocare e ma giochiamo 21 punti milano merito 1 però lui sta ancora merito 3 ma baffanculo vediamo una sbicettina veloce afsk 869 1431 partite vabbè vabbè da più fiducia no ok quadrato c'è l'edito e parti ma inchia come sta il mio cazzo di attaccanti oh no no un cazzo di attaccanti dai centri no vabbè ok poi lui poi lui 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 eh eh niente golista poi destro sinistra poi corto lui lunga capitano lui questo col 442 darà molto fastidio uff a ste cazzo di divise ok perfetto così ci capiamo buon divertimento Wallyu non so se riuscirò a registrare la tuta raga non penso io c'ho cazzo dei 30 minuti solamente registrabili dai muoviti si ok quanto ho di giocare San Siro un po' vi spiro perché mamma c'è 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 un po' c'è c'è un po' c'è un po' un po' un po' si vede una rivola in queste parti. Allora. Allora, un po' di vento di vento, quindi il futbol ha no escusi per non essere al suo meglio. Le squadre che io conosco sono ponte per questo. Sono fantastiche scelte in stanza. E metto la gamba. E metto la gamba. Madonna mia, oh! Oh, madonna mia. Oh! No, ma che ha fatto? Per quale cazzo di motivo? No, vabbè, dai. Ma come cazzo è che non mi sparate i giapponesi di merda, oh! Dagli a lui, sì. Ma perché se non era lui? Madonna mia. Vabbè, vaffanculo. Veloce a metterla dentro. Ah, si già mette il tacchiato, toglie tutto, sì, togli tutto, dai. Sì, sì. Qua, bravo. Sì, dai che sei vero. Mettila. Zumba. È Zumba. Lo muto da mantro, no. Ma come cazzo è, oh! Ma? Madonna mia. E non la spazza, oh! Oh, la devi spazzare! Oh, la devi spazzare! E prendo sempre i soldi in gioco, meno male. E prendo sempre i soldi in gioco. Mamma mia, oh! Oh, e no il ball. Oh, no, po' di contatto. Niente con i soldi. Oh, guarda, non voglio sentire troppo dismesivo, ma da qui sembra la cosa più difficile da fare. Beh, vina se batte la mano. Vì. Vì. Sì. Vabbè, vabbè, ce ne andremo tutti con questi milioni di calci d'anno. Poi c'è tutti saltato questo pezzo di merda. Oh, qui sta avanti nessuno. Come? Non dobbiamo chiederle. Allora, vabbè. Allora, vabbè. C'è... Attenzione, insieme alla Pina World Cup, Ronaldo! Eh? Madonna, vabbè, Ronaldo Cup è tutto pompato, non riesco. E dai! E dai! E che cazzo! E' molto necessario. Sta solo qua. Minnattino, c'è andrò a camp. Chi ghiò? Fa vedere il preno, eh? Devi giocare. Asciuga tu. Non devi giocare. Io gioco. A cazzo. Dove vai? Quadra. Aspetta, io lo so attivo, madonna me. Dai. No, tu. È salta là. Quadrado. E adesso il break away. È saltato il primo. È saltato il secondo. La sto dando al terzo? No. La metterla. Ok. E io l'avevo data Ronaldo. No. No, ma l'ho selezionato. Va va a fanculo, va, eh. Va a usare di merda. Ma... Chi sta qua? Nessuno. No, niente. Ma non è a lui. È dalla Ronaldo. Ah, Ronaldinho. Una bomb. Che cosa tiri di sinistro? Oh, donna mia. Ma io lo sa più. Ma si vedono le partite. Cioè, le sai leggere subito. Subito, dai. Oh, c'è, vabbè, vabbè. Vaffangulacca da bacchina da mamma. Vabbè. Cavani. Quanto mi sta sul cazzo, Cavani, oh. Ma no, come gioco... Cioè... Che fai? Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma vabbè, vabbè. Ma che stai spazzo a questo, la ditte? Ma ne vabbè, 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 vabbè. Vabbè, 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 vabbè. Ma... Perché si è fermato? Però ma non ti sta a mezz'ora, oh. E dai! E dai, vattene a fancura, allora, dai. Magali, la... Mamma mia, che palle queste, io non li posso vedere, oh. Cioè, io gioco pure sotto 10 a 0, dai. Ma va a cagare, va. E se, mo' giustamente sta... Giusto, giusto, mo' che sto registrando. La puttana da mamma. Meno mai che la sto registrando. La puttana da mamma. Non vuoi giocare, esci. Testa di minchia. C'ho la morte. Un saluto e un bacio al... Al numero uno dei cioloni. Alessio Bernardo. Ehi fu. E dai. Oh, raga. Come va e va. Finirà la registrazione. Pazienza. Questo va in schema di giochi, non fa una mazza. Che sta cambiando. Niente. Cioè, guardate, io mostro. Perché non è un... Parecchi fanno così. Andiamo. Io Melino non la so fare, che sia chiaro, eh. So scassi. Fa sti costi. Non so, non è per me. Io devo sempre giocare, non mi interessa. Ma che fa un cazzo di golla, oh. No, eh no, eh no. Non puoi esprirlo di mano là. Ma dai. La devi mettere al centro. Brava. Ok. Niente. Dona mea, oh. Dona mea, oh. Ronaldinho. Billia. He could have been in, just needed a better final ball. That was just poor decision making and a weak execution. Caps it out. Questions were asked. Non fai una volta di antico... Una volta ti chied... Una cazzo di volta. Puoi andare in antico. Dai. Ma era... Era Ronaldo la... Ma non è... Ma non è possibile. No, vada che gol ha fatto questo. Ma il portiere, fallo vedere. Ma il portiere dove... Ma il portiere dove... Oh. Oh. E dai. E dai. Salamiarotti. Coglioni puletto. E dai. Ma do meno ma... Ma dai. Oh che pole. Oh che pole che siete. E giocate a calcio. Cristo santo. Oh. Madonna me salamiarotti. I coglioni. Oh. Ma non può stare solo questo. Ma non è... Ma non è... Ditemi mo' come devo giocare. Vabbè. Vabbè. Ma mannaggia la morta da mamma. Ma mannaggia. No. Ma che cosa? Cazzo sta... Uno. Vabbè. Se dovesse finire la gestazione poi vi posto il risultato della partita. Che già so come andrà a finire. Già so come andrà a finire. Già so come andrà a finire. Ma perché? Aspetta. L'aveva intuito questo. Niente. Sì. Here it comes. 3-3. Ma lo sapevo io. Ma sicuro. Che gioco. Non tirare. Tira molto male. Non tirare. Non tirare. Aspetto a chi ha il momento, l'unico dubbio è di quanti sono arrivati. Cavani... Perchè... Messi... Il gioco è un gioco... Rinaldo Sì Certo It is a foul My God, we're that list Wow non lo vedi, pirva grazie Ronaldinho eh oh è in via sta cazzo di palla mo c'è da è quello che sbagliò come stanno queste dove sta? non ti fa la docci, non ti fa la docci non ti fa la docci non ti fa la docci mamma me mai un rimbalzo a me oh Inter are definitely not going down with